Ciao Salvatore, parliamo degli incentivi per l'acquisto di una stufa a pellet o ad altre fonti di biomassa. Esistono due importanti incentivi, la dedazione fiscale ed il conto termico. La prima permette di dedare in 10 anni dalle tasse il 50% della spesa sostenuta per acquistare e installare la stufa a pellet. La seconda consiste in un incentivo che viene erogato dal GSS e rappresenta secondo me lo strumento più interessante. Perché il conto termico è per te lo strumento più interessante? Perché consiste in un incentivo che viene erogato entro 60 giorni dall'approvazione della pratica e può coprire sino al 65% delle spese sostenute per acquistare e installare il prodotto a biomassa, purché vada a sostituire una vecchia stufa o un camino. Quali prodotti rientrano nell'incentivo? Tutti i prodotti alimentati a biomassa, quindi stufe, caldaie a pellet, legno e nocciolino, purché certificati dal GSE. Calipo Progetto Casa. Cosa propone ai propri clienti? Noi offriamo ai nostri clienti un servizio che abbiamo in mano. Ci occupiamo infatti di fornire e installare il prodotto e seguire la pratica dell'incentivo. Al contempo per agevolare i nostri clienti proponiamo la cessione dell'incentivo. Cosa significa? Significa che scontiamo dal prezzo di vendita del prodotto l'incentivo che verrà erogato. Ci puoi fare un esempio? Ipotizziamo che un cliente debba spendere 2.500 euro per acquistare e installare un prodotto a cui corrisponde un incentivo di 1.500 euro. In tal caso il cliente pagherà alla Calipo Progetto Casa soltanto la differenza pari a Euro 1000.